Guarda Gioina, guarda Gioina, ciao, 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 la nonna mette nella teglia, nella teglia mette la pasta, alba, 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 nonna, vuole farlo alba, dalle il mestolo, dalle la cucchierezza, se si sporca non importa, no, no, vai, tira giù, tira giù, prendi l'altra pasta di qua, vieni qua, brava, 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 bravissima, brava alba, guarda, non lo dobbiamo mettere qua, alba, infatti qui là, se no Gioina non può venire, attende che muova, e avanti, tiriamo giù, gira, gira, brava, ok, metti qua un altro poco, un altro poco di raya, no, lì non ci vuole, quella è il dolce, questa è la pasta, quella che hai fatto è la pasta, quella more è il dolce, non ci vuole, vai, mettene ancora, vai, ancora, 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 ma non lo copriamo ancora, perché se non farò, non ci vuole, non ci vuole, la leccatina sullo zucchero, va bene così, la leccatina sullo zucchero, non metterci le dita sopra, no, non metterci le dita, hai assaggiato lo zucchero, ma senza pensare, guarda la leccatina sullo zucchero, la leccatina sullo zucchero, basta, saluta, basta, e non lo do, eh, alba, com'è buona questa pasta, l'hai cucinata tu? sì, è ottima, è ottima, l'hai cucinata tu? sì, brava, saluta a tutti, dici buona Pasqua, ciao, ciao